Marco Mennillo, 22 anni, non ancora da compiere ed un recente passato che l'ho visto sulla scena nazionale è stato l'inviato al Giffoni Film Festival per Sky Cinema un giulianese che ha conquistato tutti con Verve ed Acume ci spiega come è stata l'esperienza con una delle emittenti più importanti al mondo è stata incredibile, inaspettata, è stata una botta di fortuna ma soprattutto una cosa che mi ha fatto crescere dal punto di vista professionale ho incontrato chiunque, anche persone di cui sono fan come Ria Michelle ho incontrato i protagonisti di Comora la Serie ho lavorato con delle persone che lavorano in una delle più grandi aziende di media in Italia e che mi hanno insegnato veramente tantissimo e poi dal punto di vista prettamente emozionale penso che il Giffoni Film Festival sia uno di quei posti che letteralmente ti porti dentro anche quando sei andato via perché incontri chiunque e diventano parte della tua vita Il Libre Voci aveva come intenzione quella di portare qualcosa di bello a Giuliano esattamente come l'idea del 18enne che ha creato il Giffoni Film Festival voleva diventare qualcosa di nuovo per Giffoni noi abbiamo sempre avuto questa intenzione e questa speranza sarebbe un sogno che il Libre Voci fosse per Giuliano esattamente quello che il Giffoni Film Festival è stato per Giffoni è stato per Giffoni